Un fermento palpabile attraverso il quartiere generale della Serenitana, mentre i Qemesi emerge come protagonista nelle trattative delle ultime ore. Con un'operazione che si profila alla conclusione e i documenti pronti per la firma, il talentuoso attaccante nigeriano sembra pronto a far parte della squadra Granata. In un clima di attesi, il calciatore si appresta a sottoparsi alle visite mediche prima di unirsi ai compagni per il tanto atteso match a Roma. Il calciatore giunto a Salerno, invece, Trivante Stewart. Il calciatore giamaicano firmerà un contratto biennale da 200.000 euro netti a stagione, con bonus strettamente legati alle reti segnate. Un affare che si consuma a titolo definitivo, così come nel caso del giovane centrocampista classe 2003 Legowski. L'attenta strategia del direttore sportivo De Santis, operante in un contesto di budget limitato rispetto alla scorsa stagione, prevede una selezione accurata dei giocatori, garantendo una fusione armoniosa con la solida base attuale e un occhio rivolto al futuro in una prospettiva di crescita tecnica. Sebbene Miretti e Nicolussi Caviglia si allontanino definitivamente dai radar, uno spiraglio resta aperto per un possibile ripensamento nel caso in cui Mamadou Collibalia e Maggiore prendessero altre strade nei prossimi giorni. Dalla Juventus giungono in prestito secco Facundo, Gonzales e Sule, con la loro versatilità adatta sia al ruolo di ala che a quello di trequartista. Intanto la problematica legata al passaporto di Martegani trova una soluzione, aprendo la strada per ulteriori sviluppi. L'orizzonte si fa sempre più chiaro con l'annuncio di un potenziale quadruple ufficialità entro giovedì, in vista di altri giocatori di cui si è discusso. Il consolidato di A, elemento di spicco della squadra, rimane saldamente ancorato ai ranghi Granata. Nel caso in cui Boteim decida di intraprendere un nuovo percorso, la squadra valuterà l'acquisizione di un ulteriore attaccante per garantire un'azione dinamica in avanti. In questo delicato balletto di trattativa, alcune figure sembrano proiettate verso l'uscita. Fazio, Sepe, Timi, Orlando e Christofferson si aprono la possibilità di nuovi scenari. Tuttavia la dirigenza nutre l'intenzione di preservare il talento di Bron, attesa la sua indubbia importanza. Il verdetto finale però risiede nelle mani del manager Sousa. Grazie. Ciao. Ma vede.